E benvenuti ragazzuoli, oggi siamo su Supermarket Simulator, versione mobile, ma dovrebbe essere l'originale stavolta È un po' nascosto, non so effettivamente se è anche la versione ufficiale, però dovrebbe essere quello spiccicato alla versione PC Sotto suggerimento di Arby, che mi ha spiegato appunto come andarlo a trovare L'ho trovato, l'ho installato, oggi lo proviamo, è un po' complicato da trovare, quindi vi lascio il link in descrizione E se lo volete scaricare, cliccate lì e lo trovate subito Sembra lui, è lui, è lui Adesso non so se è quell'ufficiale oppure sto tizio che l'ha creato, ha estrapolato tutta la grafica dal gioco originale E insomma ha fatto quello che ha fatto Inizierai con un piccolo negozio che è esattamente quello, cioè inizia esattamente come la versione PC Abbiamo il magazzino da sbloccare, ovviamente livellando il nostro supermercato Abbiamo la porta interna che si aprirà nel momento in cui livelleremo ed espanderemo il nostro magazzino E niente, graficamente insomma migliorabile, però Cioè è lui, cioè se volete Supermarket Simulator su Android e non avete il PC Prendeteli questo, è pure gratis E quindi mi vado ad ordinare la merce, vediamo Oh, adesso qui ci sarà tutto quello che abbiamo anche su Supermarket Originale PC Ovvero solo questo per ora Perché dovremmo sbloccare le licenze presumo, no? Anche qui È praticamente quello, è quello, è quella versione PC però mobile Potremmo pagare fatture, potremmo sviluppare il nostro supermercato, potremmo assumere Gino anche qui Va bene così, niente, andiamo a comprare le solite 4 cosucce con le quali si inizia a giocare Però abbiamo solo 50 dollari No, ma perché? E allora mi sa che i Chocopops li togliamo Qui possiamo avere accesso al nostro carrello Quindi togliamo i Chocopops, vi soccari i Chocopops Mettiamo il pane a fette, mettiamo la farina, mettiamo l'olio Vabbè, niente, mi ordino due farine 46 e 52 Pazzina, 4 dollari di spedizione Manco Bartolini si fa pagare 4 dollari di spedizione E vediamo se qui la merce arriva subito Ma se tanto mi dà tanto la merce arriva subito Sempre scatolata fuori nel marciapiede Però va bene così E quindi niente, vado a prendere merce E andiamo a sdivacarla direttamente tra gli scaffali Come metto lì, sempre con la manuzza Vabbè, non sbagliamo tasto Quindi le scatole andiamo a gettare nel cestino Sempre con la manuzza Impostiamo il prezzo 399 Me lo metto a 399, perché? Ora capite perché il gioco era nascosto 3 virgola, la virgola non c'è 3 punto, 3 punto, 9 9 Ok, me lo metto a 399 Metto 4 dollari direttamente Chi si è visto si è visto Poi andiamo a prendere altra merce Altra farina La metterei accanto Spacchettiamo Perfetto Buttiamo scatola Ok e prendiamo le altre cosucce Olio di semi Andiamo a metterlo qua Impostiamo prezzo A quanto lo vendiamo l'olio Ora vediamo A quanto lo mettiamo l'olio Aspetta vediamo a quant'è 1.50 4.50 Lo metto Vorrei mettere a 4.99 Non è possibile quindi mettiamola a 5 dollari Adesso la gente si lamenterà No ma quest'olio è troppo caro E andiamo a prendere l'ultima cosuccia Il pane a fette E lo mettiamo qui Perfetto Impostiamo prezzo anche del pane E siamo pronti ad avviare la giornata Sperando di guadagnarci qualcosina Perché siamo rimasti spicciolati con 3.48 3.96 Mettiamo anche il pane a 4 dollari E chi si è visto si è visto Conferma E siamo pronti ad avviare la giornata Adesso vediamo come funziona la cassa Prevedo casini Prevedo casini Open Forza il vostro supermercato di fiducia È aperto Venite a spendere i soldini Buon uomo Non le interessa Una confezione di pane Se lo fa cala Chi è? Ecco il buon uomo Questo è quello del vault Salve signore Signora Perfetto Metto la cassa Come? Come mi metto? Ok sempre col touch Perfetto Prendo prodotti Sempre con la manuzza Paga in contanti Sempre con la manuzza Gli devo dare un dollaro Quindi premo un dollaro Tac Enter Fatto fatto Insomma è un po' più complicatuccio Rispetto alla versione PC Carta di credito E qui ne vedremo delle belle 4 dollari Puliti puliti Va bene così Farina Con tanti saluti E le do Zero di resto Quindi enter E insomma È gestibile Comunque il gioco è veramente quello ragazzi Obiettivo Servire 25 clienti Il gioco è quello spiccicato Dalla versione PC Quindi non è una rivisitazione Non è un clone È proprio quello Il gioco è quello Quindi olio Carta di credito E il signore paga Ben 5 dollari E qual è No il 5 è il punto No Vabbè vediamo Vabbè Allora poi Olio pane Con tanti saluti Un dollaro di resto Enter Perfetto Poi potremo anche spostare tutto ciò Dico se non ci piace la cassa qui Possiamo spostarla Non è un problema Possiamo spostare anche gli scaffali Proviamo con questo Ecco qua Possiamo spostarli E metterli come cacchio vogliamo Però nel dubbio Per ora me lo vado a riposare Signora Sto facendo lavoro in corso Mi scusi Aspetti Aspetti Ma che è Ma che siamo alla reception Che suonata la campanella Arrivo 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 Non abbia fretta Ok mi metto alla cassa Olio e pane Olio e pane Carta di credito E paga la bellezza di 9 dollari 9 dollari Lei che sta facendo Sta contemplando la sua vita È olio È olio Il cacchio sta guardando l'etichetta Mi scusi È morto questo Secondo me Mi scusi Ma che è Si è imbalzamato Ma guardi che mi spaventa i clienti Si è bloccato Si è bloccato qui Vabbè Non ce ne frega niente Salve Non si Perfetto Non vi curate di questo essere bloccato qui Non vi preoccupate Ora capite perché è ancora nascosto sto gioco E grazie ad arbi lo abbiamo sviscerato Allora Contanti È 0 dollari Enter Quello è rimasto morto là Fantastica Alla pane Contanti È 1 1 Meno male che i resti Sono precisi E non dobbiamo fare 5 10 15 20 Che è? Enter Vai Vai Vattene Se mi potete Sbalzamare quello che è lì di fronte Mi fareste una corte Bravo Costa troppo per me Capito Io ho i prezzi con la virgola Non le posso mettere Che devo fa? 4,50 4,50 Vediamo se posso mettere 4 Clicco 450 No Allora 4 Punto e 5 Non me lo fa mettere Che devo fare? Che cosa posso fare? Lo metto a 4 Ci perdo Quello di prima l'ha comprato Quindi comprato Non ci fracassate le scatole Allora Aspetta un attimo Mi vado a sedere Quindi farina Carta di credito E paga 4 dollari Perfetto Lei ha preso pane Niente L'olio effettivamente Non si sta più vendendo O perché si è buggato Quello lì Allora 46 Quindi 40 20 40 5 E 6 O perché si è buggato Quello lì E quindi l'olio Non riescono più a prenderlo Perché c'è la mummia L'ha imbalsamata Oppure effettivamente È troppo caro Prendo solo pane La farina Non la prendono più Si è buggato il gioco La carta di credito Lei paga 4 dollari Ormai Prendete solo pane In questo postaccio Avanti il prossimo Spicciate Che sono le 4 e mezza Devo andare a casa Dalla mia famiglia Lei ha la faccia di uno Che vuole l'olio Glielo leggo Proprio in faccia Ah c'è 3 Vorrei pure qua Guarda là E niente Prendono dritto per dritto Verso il pane Oh l'olio Quello l'ha preso Fantastici Bravissimi Ok Prendo olio C'è passo olio Vedi che l'olio Si vende lo stesso Con tanti I più ricchi ovviamente 0 dollari Lei ha preso pane e olio Ma la farina che fa Non impastate oggi Il pane non lo dovete fare Giustamente lo comprono 0 dollari Enter Quello è rimasto imbalsamato Davanti all'olio Sta ancora leggendo Le etichette Per capire come hanno Processato questo olio Quali ingredienti chimici Hanno utilizzato Per estraporarlo Signorina Salve Lei ha preso la farina Brava Ok In Tac 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 Nel frattempo è scesa la sera Vediamo se c'è un tasto Per accendere Che cacchio fa Per accendere la luce Enter Carta di credito 12 Tac Ok Lei che ha preso Signorina Comunque i personaggi Sono esattamente Quelli Dell'originale Tutto il gioco Tutto il gioco Effettivamente Quello originale E quindi 16 dollari Ok Accendi le luci Ok Quindi ce l'abbiamo Un tastino E se Che è successo E' sempre qui E' sempre qui Quindi premiamolo Accendiamo Vedi i faretti Posizionati Su misura Poi quando li andiamo Ad aggiungere Li mettiamo un po' A cacchio di cane Ok Manca una luce qua in mezzo Però siamo oscurati Allora salve Lei che ha preso L'olio Vedi che si vende l'olio Ok Con tanti Con tanti E 0 dollari Enter Lei che ha preso 2 farine E un olio Bravo Bravo Carta di credito 13 dollari Conferma Lei che ha preso L'olio Con tanti saluti E paga 0 Cioè paga 0 Resto 0 Quello sempre imbalsamato Là E va bene così Manca una mezz'oretta E me ne vado a casa Sono le 9 E io piuttosto che Chiudere il negozio Me ne vado a casa Non lo faccio Perché si è bloccato il gioco Si è bloccato il gioco Ragazzi Ora capite Perché è nascosto E quindi Dovete andarvela a cercare Per questi problemi Non è il primo gioco Che mi si blocca Ultimamente mi si blocca In i giochi Su smartphone Quindi dovrei un po' Formattarlo Inizializzarlo Quindi forse è un problema Comunque nel mio smartphone Provatelo voi Fatemi sapere nei commenti Se anche a voi Da questo problema Di Cioè che si blocca Quindi se io lo riavvio Sto gioco Devo rifarmi la giornata Fortunatamente no Meno male Quindi chiudo il mio negozio Quello si è sbagato Meno male Non c'è più Chiudo il negozio Fortunatamente salva Meno male E niente Abbiamo guadagnato 132 dollari E iniziamo il giorno seguente Riceverai bollette Giornaliera A partire da oggi Assicurati di pagare Le fatture Usando il tuo computer Prima della loro data Di scadenza E o verranno pagate Automaticamente In ogni caso Dovete pagare ragazzi Oltre alle bollette Possiamo eventualmente Richiedere un prestito Con la quale Ingrandire un po' Il nostro supermarket Comprare licenze Eccetera eccetera Per farlo Basta andare in banca E chiedere un prestito Ovviamente Dovrete pagarlo ogni giorno La rata del prestito E quindi Vi indebiterete Fino al collo Vabbè ragazzuoli Il gioco è praticamente Quello Quindi se non Se non l'avete su pc Potete scaricarvi Questo tranquillamente A parte qualche bug E comunque c'è da vedere Se è un problema Del gioco Oppure del mio dispositivo Quindi mi salvo La partita Me ne esco al menu E noi ci vediamo Al prossimo video Ma mi raccomando Di lasciare sempre like Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Attivate la campanella E per oggi è tutto Al prossimo video